Va a sistemare il pallone, ovviamente è un momento chiave, grande pressione su di lui. Non va! Grande intervento nel portiere. Fantastica parata questa. La mette dentro. Trentissimo, ha trasformato. Portiere battuto. Realizza il calcio di rigore. Palo! Sbaglia il calcio di rigore. Ha usato troppo, ha angolato troppo il tiro. Non può sbagliare qui. Deve mantenere i nervi saldi. Intervento decisivo del portiere. Ha mantenuto i nervi saldi, grande parata. È pronto dagli 11 metri. Tutta la tensione sul suo volto. Rigore calciato in maniera davvero impeccabile. E adesso tutta la responsabilità è su di lui. Deve metterla dentro a tutti i costi. E c'è il gol, ma il portiere ha un centimetro dal pallone. Grande rischio, ma grande efficacia. E c'è il gol! Bellissimo gol questo! La mette. Tutta la tensione sul volto di questo giocatore. Momento chiave. Pallone in rete. Niente da fare per il portiere. Niente da fare per il portiere. I pensieri, i turbamenti, forse anche la paura mentre si avvicina al dischetto. E c'è il gol! E c'è il gol! E c'è il gol! E l'aveva sfiorata. L'aveva quasi presa. Una spinta in più. Ci arrivava. Si va avanti a calciare dunque. Nell'attesa che qualcuno sbagli. Straordinaria parata del portiere. È rimasto concentrato fino all'ultimo. Bravo! Momento fondamentale, cruciale della gara. Enorme tensione. Non deve sbagliare adesso. E c'è il gol! Finisce qui. Perfetto il rigore. E questo è un calcio di rigore molto difficile da calciare. Ma è riuscito a mantenersi freddo. È concentrato ora a festeggiare con i compagni. Ecco il gol. Vediamo anche da quest'altra angolazione. Esplode la gioia con il fisco dell'arbitro perché sono in finale. Hanno giocato bene. Hanno vinto meritatamente. Ora vedremo cosa sapranno fare nel momento cruciale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.